Tante MILF, tutte per te cari amici, tante MILF, tutte per te. Io devo frequentare anche Facebook, ho tanti amici su Facebook che mi scrivono, che mi scrivono. Ogni volta che vado su Facebook, alla destra, appaiono tante belle pubblicità, tante tante belle pubblicità, alla luce del sole, tutta la luce del sole. Di solito sono pubblicità che riguardano donne mature, donne mature, che oggi vengono definite grosso modo, MILF è un acronimo, un acronimo, che grossomodo vuol dire, vorrebbe dire, madre, che io vorrei, fuck. Cioè, una donna, una mamma, una donna sposata, sopra i 30 anni, che io vorrei, fuck, fuck. Non dico, non traduco, fuck, perché, se no, se no, la cosa diventa volgare, fuck. Una madre, una mamma, una donna, già mamma, che io vorrei, fuck, fuck, fuck. E allora mi chiedo, ma come mai, come mai, c'è tutta questa offerta di MILF, MILF, MILF. Poi vi metto, ve lo metto, vi metto tutta la documentazione nel riassunto di questo video. A me pare che sia una cosa positiva, perché ho già fatto tanti video, tanti video per dire che è meglio, che è meglio, è molto meglio, è meglio stare alla larga dalle ninfette. C'è proprio un mio video intitolato, alla larga dalle ninfette, alla larga dalle ninfette, le quali ti procurano soltanto dei guai. Sapete, la ninfetta, no? La ninfetta è una donna, ancora giovane, si dice una donna giovane, e quindi piena, piena, si dice giovane di belle speranze, giovane di belle speranze. E delle ninfette si dice, si dice grossomodo, che se la tirano, se la tirano. Meglio andare con le MILF. Ma ve lo sempre dite queste cose, cari amici, ve lo sempre dite, ve lo sempre dite. Uh, quante volte vi ho detto che io andrei con la bella, la guarda, la guarda, che mi pare che sia ancora al vertice del Fondo Monetario Internazionale, la guarda, la guarda. Non ricordo come si chiama di nome, ma è una bella donna la guarda, una bella donna. Io me la immagino nuda la guarda, deve essere come una statua, deve essere una statua, una specie di bronzo di riace al femminile, anche se ha la sua età. Ma oltre l'età di una midf. Ecco, cari amici, voi andate su Facebook, alla vostra testa, dallo schermo, trovate tutte le pubblicità di donne mature che verrebbero con te. Non hai che la difficoltà della scelta. Io non sono mai entrato in profondità nella situazione. Non credo che queste midf vengano con me gratis, non ci credo. Comunque c'è la possibilità di andare con delle belle midf che c'è scritto nella tua zona, stanno nella tua zona, capito? Lì vicino a te, nel raggio di 4-5 chilometri. Ecco, cari amici, quindi nel riassunto di questo video troverete il link che vi porta su uno di questi siti di MILF, donne mature, poi troverete pure il link che vi porta su un articolo dove si spiega come nasce l'acronimo MILF, e poi troverete anche il mio antico video intitolato Alla larga dalle nifette. Ok cari amici, grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.